Con 285 interventi di somma urgenza e di ripristino in parte già conclusi e comunque da chiudere entro marzo 2018 nelle zone colpite dall'alluvione di Livorno con le salvette in Rosignano Marittimo, ora la Regione Toscana ha deciso di stanziare 40 milioni di euro destinati alla riduzione del rischio residuo e alla messa in sicurezza del territorio per evitare nell'immediato che si ripetano disastri come quello dello scorso 10 settembre. Lo ha detto il Presidente della Regione Toscana e Commissario Delegato Enrico Rossi, ritornato nella sede del Genio Civile di Livorno, progetti preliminari entro dicembre, messa in sicurezza di torrenti e rii entro la fine del commissariamento. Qui non c'è una procedura che salta alcuni passaggi come per le somme urgenze, qui bisogna fare l'evidenza pubblica, la gara, ci vuole il progetto, ci vogliono tutti i pareri, solo che ciò che tipicamente si fa in due anni con i poteri che il Governo mi ha attribuito e di questo lo ringrazio, io li chiedevo anche per il resto della Toscana, ma non ci sono stati dati. Facendo tutte le carte, tutti i pareri e tutto ciò che deve essere fatto, in 6-8 mesi noi penso che riusciremo ad appaltare questi 40 milioni per 25-30 progetti circa. Intanto il Presidente Rossi ha annunciato anche la creazione di un servizio di polizia idraulica che dovrà offrire opportunità di lavoro ai giovani incaricati di vigilare che sugli argini messi in sicurezza non siano commessi nuovi abusi. Faremo un progetto speciale, proveremo qui, ma lo voglio estendere anche al resto della Toscana, di polizia idraulica. Questi giovani passeggeranno, andranno opportunamente formati sui rii, sui canali, sui fiumi della Toscana, partiremo da Livorno per impedire che ci siano abusi che poi a loro volta ostacolano il deflusso delle acque. Fino a oggi, a tirato le somme Rossi, sono stati impiegati 32 milioni di euro per gli interventi in corso d'opera e la Giunta regionale, a detto Rossi, ha deliberato anche un'anticipazione di cassa per il pagamento degli operatori impegnati nella ricostruzione.